è poi interessante capire come nasce la morale in senso filosofico perché la morale in realtà nasce in senso filosofico cercano di comparare appunto gli scopi con quindi il rapporto anche con l'atteggiamento culturale cioè che cosa vogliamo fare noi della nostra cultura e in realtà anche della nostra comunità il rapporto poi fondamentalmente con i mezzi che abbiamo il rapporto agli scopi non è un caso attenzione che la morale inteso come filosofia morale nasca appunto nel quinto secolo avanti cristo ma in realtà specificatamente nel quarto con le opere di platone e poi specificatamente con aristotele anche se in realtà specificatamente già nacque con platone perché perché in realtà platone era una conseguenza in realtà aveva fatto una riflessione teorico politica ma anche se vogliamo pratica l'aveva vissuta anche sulla sua pelle delle conseguenze della guerra del peloponese ma attenzione anche se vogliamo di una storia che appunto si è sviluppata all'interno dell'antica grecia che aveva lasciato in fin dei conti dei segni dei segni importanti questo perché perché platone come per esempio anche lo stesso aristotele successivamente si erano trovati in una situazione con degli scopi che erano mutati mutati anche sulla base del periodo storico attenzione se noi dobbiamo parlare all'inizio del quinto secolo avanti cristo come quel secolo tale per cui i greci si alleano tra loro per sconfiggere la minaccia persiana e attenzione questi scopi valgono come mezzi per scopi cioè io attuo un mezzo per arrivare a uno specifico tipo di scopo questo cosa che significa che io devo cercare di sviluppare delle metodologie d'applicazione tale per cui riesco a mettermi nei panni dell'altro anche come comunità riuscendo quindi aggiungere degli scopi per l'inizio del quinto secolo avanti cristo lo scopo era quello di limitare la venuta persiana all'inizio questo scopo fu sviluppato soltanto dagli attenesi battaglia di maratona successivamente la cosa cominciò a riguardare più poleis questo sicuramente un dato importante cioè all'inizio nel quinto secolo avanti cristo il tema dell'indipendenza da un lato e dell'autonomia dall'altro portarono le città greche a doversi misurare con un certo tipo di patto inteso come associazione misurata sulla base naturalmente erano gli aristocratici che soprattutto fecero questo tipo di associazione coloro che poi avevano il diritto gli aristoi eccetera non dimentichiamoci appunto che in fin dei conti l'antica grecia soprattutto nella età arcaica e verso anche l'età classica vedeva il diritto proprio come diritto degli aristocratici se non poi una parentesi sarà atene però questo interessante perché perché il mezzo era cercare qualunque cosa fosse possibile pur di limitare appunto l'avanzata dei persiani questa fu all'inizio una preoccupazione specificatamente degli attenesi rispetto alle poleis di appunto asia minore la rivolta ionica la rivolta ci dice erodoto gli ioni si rivoltarono e gli attenesi cercarono di intervenire intervennero soltanto loro ma in fin dei conti non riuscirono a farcela non riuscirono a dare davvero una mano il mezzo era la nave cioè io mando parti della mia flotta la con anche magari delle navi da eubea però poi queste navi non riescono a raggiungere il loro scopo accade che dario si arrabbia tantissimo e minaccia poi tutta la grecia ora la battaglia di maratone è chiaro che vinta storicamente dagli attenesi cosa accade però che i persiani si stanno davvero espandendo in tutto l'egeo in fin dei conti la battaglia di maratone vinta dagli attenesi ma in realtà i persiani stanno sempre più andando verso occidente il presupposto quindi importante cioè i greci devono cominciare a sviluppare dei mezzi migliori temistocle già comincia a sviluppare un tipo di idea cioè lui si prepara la riforma di temistocle col dibattito questo è importantissimo il dibattito con aristide all'interno di atene vedete il mezzo il mezzo in atene era dal punto di vista se vogliamo di prima democrazia cioè gli aristocratici comunque una minoranza si mette lì a dibattere su cosa deve essere fatto all'interno della città come utilizzare i fondi quindi questo è mezzo fine fatto sociale cioè un fatto sociale c'è un consenso bisogna capire il consenso dove vuole andare sulla base appunto di ciò che sta aggiungendo redistribuire quindi il ricavato delle miniere delle miniere dell'aurion d'argento ai cittadini o utilizzarlo per una flotta sempre in fin dei conti per la città ma specificatamente per un obiettivo quello per esempio della difesa o del contrattacco sulla base appunto della presunzione che i persiani arriveranno e ci attaccheranno tra l'altro questo lo dice anche montesquieu cioè e questo è interessante da un punto di vista concettuale liberale cioè se sai che c'è quell'atto autoritario che sta per arrivare tu ti premonisci quindi in fin dei conti come ha fatto temistocle crei una flotta in questo senso per premonirti sulla base del fatto che sai che comunque i persiani gioco forza prima o poi tornano quindi in realtà tu ti premonisci in questo senso quindi tu cerchi di supportare la tua situazione tale per cui non già in modo illogico ma attraverso una logicità tu sai che questi erano già venuti e hanno cercato di usurpare la tua terra allora tu ti premonisci ti premonisci lo fai perché vuoi difendere ciò che hai questo è il presupposto al di là delle fazioni e i greci erano completamente in senso c'erano le fazioni cioè c'erano anche quelli che forse vorrevano che i persiani arrivassero in certo qual modo non dimentichiamoci che gli stati federali per molti versi al di là non le polis stati federali soprattutto accettarono le condizioni dei persiani perché si vogliamo basare su una buona organizzazione ma le polis sull'autonomia anche lì capite a tene gioca sul dibattito per costruire la flotta c'è poi anche una distinzione la stessa tra stati federali e città stato cioè un conto sono i stati federali che vogliono basarsi su una buona organizzazione terra e acqua diciamo di sì perché noi ci organizziamo sulla buona organizzazione no stati federali ok polis al di là degli limiti economici da un punto di vista nostro culturale non possiamo accettare un dominio straniero perché la nostra cultura inteso come indipendenza autonomia ci impone fondamentalmente anche da un punto di vista religioso determinista che non possiamo accettare terra e acqua non le accettiamo quindi utilizzeremo i nostri mezzi per cercare di limitare il più possibile appunto la vostra venuta soprattutto in realtà il vostro attacco questo è il dibattito che si forma e in realtà questo poi porterà anche a un'alleanza un po' scricchiolante ma ci sarà tra anche spartani attenesi lo stesso temistocle utilizzerà appunto la sua retorica la sua capacità anche dialettica e diciamo la sua figura per convincere gli spartani a combattere in mare sulle navi attenesi non in terra gli spartani volevano combattere in terra chissà come sarebbe andata però si combatté appunto a largo delle coste di salamina e lì appunto nella appunto la battaglia di salamina 480 avanti cristo vinsero i greci e rispinsero poi definitivamente i persiani attraverso poi si arriva a quella che viene definita successivamente la pace di caglia con cui si definirono poi anche i confini qui vediamo che c'è una come dire si possono prendere dei tronconi cioè il troncone greco il troncone persiano il troncone greco è un po la larga perché poi non è che tutti i greci ho spiegato naturalmente erano a favore di questo tipo di atteggiamento soprattutto le polis greche gli alleati soprattutto di atene e gli alleati soprattutto di sparta anche perché se sparta rifiuta terra e acqua o meglio anche se atene rifiuta terra e acqua una delle due rifiuta terra e acqua non è che l'altra può accettare erano anche loro in diciamo un'opposizione quindi se una rifiuta anche l'altra rifiuterà andando avanti il presupposto poi dalla guerra del peloponneso cambia cambia radicalmente e da qui poi nasce anche tutta la teoria di platone sull'ambito morale perché platone a un certo punto nasce praticamente dopo la morte di di pericolo praticamente in quel periodo storico e lui si accorge in fin dei conti di una cosa si accorge che la guerra del peloponneso si traina sulla base di un conflitto che da un lato è un conflitto interno cioè non è che tutti in atene sono a favore attenzione della democrazia d'altro lato si gioca sul dibattito pubblico inteso anche come un dibattito che si mantiene ma dall'altro pericolo probabilmente secondo platone vuole corrompere i costumi e quindi in fin dei conti del potenziale tiranno di quello che tu ci vedete chiama il primo cittadino che potrebbe in realtà corrompere la democrazia indirettamente attraverso feste parterone eccetera si posi d'altro lato c'è proprio anche l'atteggiamento generale delle police che si stanno confliggiano tra loro e poi chiedono il denaro persiano per vincere su di loro cioè tra loro alla fine vince sparta la logica è persiana perché sparta prende il denaro dai persiani in quanto i persiani sono intenzionati ad aiutare sparta non già atene perché atene se ricostruisce la flotta persa dopo l'ospedizione in sicilia a siracusa che sarà successivamente diventerà poi una democrazia da qui la coincidenza e qui poi apriamo un'altra parentesi è interessante perché atene viene sconfitta nella guerra del peloponneso vede la sua democrazia decadere poi si ristabilirà così come la flotta all'inizio resteranno pochissime nave poi si ricostruiranno ma il punto è anche interessante questa coincidenza in cui tra l'altro platone con i suoi viaggi poi avrà contatti con la situazione siciliana vedrà questa coincidenza col tiranno naturalmente timoleonte bisognerà aspettare timoleonte per vedere una democrazia a siracusa ma vedete la coincidenza siracusa che prima era una tirannia e naturalmente poi vede la disgrazia da parte di atene nella guerra del peloponneso perché atene in sicilia perderà gran parte della sua flotta quasi tutta e vedrà il decadimento della sua democrazia poi che si ristabilirà siracusa vedrà una nuova un primo tipo di democrazia antica con timoleonte alla metà ormai al quarto secolo avanti cristo ben avanzato in realtà tutto ciò fa produce riflessione morale perché se prima c'è un dato che riguarda non tutti i greci ma alcuni greci che sono convinti di un ideale poi i greci stessi combattono tra loro e utilizzano i fondi persiani contraddicendo quell'ideale precedente contraddicendo per alcuni versi anche gli ideali o il senso fattuale della pace di caglia capite che le cose cominciano un attimo a traballare ed ecco perché nasce la teoria morale di platone in fin dei conti perché tutto questo assetto considerando poi anche ciò che è accaduto ad atene e la tirannia atenese considerando poi anche in fin dei conti l'evoluzione giovanile di platone che da bambino è nato in quella situazione di guerra e aveva avuto conseguenze lui fattuali cioè atene era vissuta prima di platone aveva avuto tutti questi procedimenti vediamo quindi la fondazione della morale una morale che attenzione deve prendere in considerazione l'individuo una morale che dunque si chiede che cosa deve fare l'individuo ma è ovvio perché dopo tutto questo disagio interno che ha passato atene e attenzione l'evoluzione greca della storia greca in questo in questo senso si nota l'impronta poi morale che platone deve dare che vuole dare perché la vuole dare perché si pone delle domande i dialoghi platonici non vengono dall'aria sono domande fattuali di un uomo che si trovava vissuto in un periodo storico dilaniato dall'altro della guerra dall'altro dalla contraddizione per una contraddizione tematica che portava dentro tematiche economiche politiche sociali anche culturali e ciò impone a platone una grande riflessione che poi verrà ripresa da aristotele sulla base anche di che cosa deve fare l'uomo e cosa deve fare il buon governo questi sono i presupposti e la polis che cos'è la polis qual è il rapporto tra economia e politica e cosa deve fare la politica e la domanda la domanda dicevo stavo dicendo santa in platone alla domanda sacra di platone è che cosa deve fare il politico e qual è il rapporto tra filosofia e politica sono tutte questioni è per questo che la morale inizia dal quinto e dal quarto sacro avanti cristo dal quinto perché in platone già si evolve questo pensiero dal quarto perché i dialoghi platonici che ci sono rimasti sono del quarto ciao